ecco comincia a prendere forma il taglio dell'erba sono sei anni che stanno abbandonati e stamattina ho ripulito tutto questo lato erbatta un metro qui dobbiamo togliere tutti questi cespulli dagli ulivi e poi amputarli come vedete sono arrivato fino lassù ma penso che un altro tre ore nei prossimi giorni toglierò tutto tutta l'erba e vedete quanto è alta qui ma penso che con tre ore massimo quattro sta da stamattina un'ora e mezzo ho fatto un quarto del terreno ci si stanca questi devono essere amputati non votati vedete la cocciniglia se li sta mangiando perché non sono stati più curati ma lassù sono in condizioni migliori questo è un fico e questa è una casa romana di duemila anni fa sta in pessimo stato sta crescendo un ulivo persino sopra il terrazzo questo è un altro fico queste soppere pelate le chiamavamo noi cioè pere di gaeta che autoctone ma piano piano in un paio di giorni se non piove ce la facciamo fischetto lavora sempre taglia 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 rami d'olivo pota quello la è montelauro che abbiamo rivolito è un altro fico